Proprio in queste notti c'è il picco delle geminidi, delle stelle cadenti molto particolari. Al contrario infatti della quasi totalità delle altre stelle cadenti, queste nascerebbero non tanto dai frammenti di una cometa quanto di un asteroide, ossia 3200 Fetton. Fetton lungo la sua traiettoria perderebbe dei pezzi e questi pezzi, bruciando un'atmosfera terrestre, formerebbero proprio questo sciamme meteorico. Ne parliamo nel video di oggi. Le stelle cadenti in realtà sono meteoroidi, ossia piccoli frammenti di roccia e ghiaccio che entrando nell'atmosfera terrestre bruciano producendo un fenomeno luminoso che è quello della meteora. Quando un meteoroide, quindi un frammento di roccia, vagando nello spazio interplanetario entra nell'atmosfera terrestre, brucia per un processo noto come ablazione, ossia a causa d'attrito con il gas atmosferico, si produce appunto un grande calore che va a formare proprio quella scia luminosa che chiamiamo stella cadente. Ora, ogni giorno nell'atmosfera terrestre brucia una grande quantità di meteoroidi, tantissimi frammenti di roccia perché lo spazio interplanetario è pieno di polvere, di pezzi di roccia, di cometi, di asteroidi, di pianeti che continuamente bruciano attraverso l'atmosfera terrestre. Però ci sono alcuni momenti dell'anno in cui statisticamente ci sono molti più di questi fenomeni. Sono i cosiddetti sciami meteorici, ossia dei periodi dell'anno in cui un insieme di frammenti di roccia che hanno una stessa origine, un stesso corpo progenitore, bruciano nello stesso lasso di tempo attraverso l'atmosfera terrestre, quindi abbiamo un gran numero di stelle cadenti nell'arco delle stesse notti. Proprio perché hanno un'origine comune sembrano anche provenire da una stessa regione dello spazio, una stessa regione della volta celeste. E per questo i sciami meteorici prendono il nome dal cosiddetto radiante, ossia da quella regione del cielo da cui sembrano irradiarsi appunto. Per esempio le stelle cadenti di agosto, quelle più famose di tutte, quelle che vediamo attorno alla notte di San Lorenzo, sono le cosiddette Perseidi, perché il loro radiante si trova all'interno della costellazione di Perseo e quindi la quasi totalità di queste stelle cadenti sembrano provenire da quella direzione. In queste notti ci sono appunto le geminidi che sembrano provenire proprio dalla costellazione dei gemelli, quindi il loro radiante si trova all'interno della costellazione dei gemelli. Viene giustamente da chiedersi perché ci sono queste regioni dello spazio così ricche di frammenti di roccia che bruciano uno stesso periodo all'interno dell'atmosfera terrestre. Nel 1866 ci fu uno sciame piuttosto intenso delle Leonidi che avevano il radiante appunto nella costellazione del Leone e in quell'occasione Giovanni Virginio Schiaparelli, un famoso astronomo italiano, notò una strana correlazione tra questo sciame di meteore e la cometa Temple Tattol. A quel punto divenne tutto più chiaro, ossia le comete sono dei blocchi di ghiaccio e roccia che orbitano attorno al Sole. Quando passano troppo vicino al Sole ecco che il loro gas comincia a sublimare, ossia passa lo stato gassoso formando la chioma e la coda che segue la cometa. Ma all'interno di questa coda ci sono tantissimi frammenti di roccia che vengono persi proprio dalla cometa durante questa fase di espulsione di gas. Di conseguenza la cometa orbita attorno al Sole perdendosi un sacco di pezzetti lungo la strada. Inizialmente questi frammenti roccia orbitano insieme alla cometa, seguono la sua traiettoria, ma in realtà poi a causa dell'interazione con il Sole che con la sua energia è in grado di spazzare in continuazione questi frammenti di roccia, ecco che derivano dalla loro traiettoria iniziale, ossia si spostano rispetto alla traiettoria iniziale. In ogni caso c'è una scia di detriti che viene abbandonata dalle comete e quando la Terra passa attraverso questa scia di detriti ecco che questi possono bruciare in atmosfera producendo appunto quel fenomeno delle meteore, delle stelle cadenti. Ogni sciamme meteorico ha la sua cometa, per esempio quelle di agosto e le perseidi hanno la cometa Swift-Tuttle. Ogni sciamme meteorico è localizzato in un certo periodo dell'anno ma ha un picco, ossia un momento in cui la Terra passa attraverso la regione più densa di questa scia di detriti e quindi c'è un maggior numero di stelle cadenti. Le solite perseidi di agosto in genere si possono vedere da metà luglio fino a metà agosto ma il picco è appunto attorno alla notte di San Lorenzo, quindi tra il 10 e il 12 agosto in genere. Veniamo però all'argomento di oggi, ossia alle geminidi, perché sono uno sciamme meteorico che ha qualcosa di molto particolare. Prima di parlarne però io vi ricordo che se vi interessano questi argomenti, quindi parlo di astronomia, di scienze planetari, di esplorazione spaziale, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti che pubblicherò. Inoltre potete iscrivervi al canale Telegram, trovate il link qui sotto in descrizione che è il primo luogo in cui informo delle vari aggiornamenti sulla mia attività di divulgazione e anche al gruppo Telegram, quello degli esploratori e degli esploratrici del cosmo, che è un luogo in cui potrete trovare tanti appassionati di astronomia come voi con cui chiacchierare e discutere di questi temi. Vi ricordo inoltre che da poco è uscito Giganti Ghiacciati sulle orme delle sonde Voyager alla scoperta di Urano e Nettuno, un libro che ho scritto a quattro mani insieme a Fabio Nottebelle che è il primo libro in assoluto in italiano che si è integralmente dedicato ai sistemi dei giganti ghiacciati, quindi di Urano e di Nettuno e di tutte quelle lune che gli girano attorno. Se vi interessano questi argomenti, se vi interessa scoprire se all'interno di queste lune potrebbero esserci le condizioni adatte per la vita, se vi interessa sapere quali sono i grandi misteri che ancora avvolgono questi mondi che abbiamo raggiunto solamente una volta, una singola volta nella storia negli anni 80 con le sonde Voyager, questo è il libro che fa per voi. Tra l'altro siamo vicini a Natale quindi se avete qualcuno appassionato di astronomia e di esplorazione spaziale e qui dovete ancora fare il regalo, questo potrebbe essere un'idea. Vi ricordo inoltre che questo progetto di divulgazione è sostenuto da un programma di abbonamenti su Tipeee in cui potete sostenerlo anche soltanto a partire da 2 euro al mese. Facendolo vedrete il vostro nome tra ringraziamenti alla fine di ogni video e inoltre potete entrare a far parte di un gruppo Telegram privato ROS248B in cui possiamo conoscerci meglio e parlare dei progetti presenti e futuri di questo progetto di divulgazione. E ne approfitto per ringraziare i miei tippers perché anche grazie a loro se questo progetto può andare avanti. Ma adesso torniamo alle geminidi. In teoria le geminidi si possono vedere tra il 3 e il 19 dicembre ma in realtà questo sciamme meteorico ha la particolarità di essere ben visibile soltanto nei giorni attorno al picco sia solo per 2-3 giorni attorno al momento del picco c'è una frequenza oraria di queste meteore abbastanza significativa. Vuol dire che al di là di questi giorni è piuttosto difficile che riusciamo effettivamente a osservarle. Furono segnalate per la prima volta a metà del 1800 ma il loro numero è accresciuto sistematicamente a partire d'allora perché quando furono scoperte avvenivano circa 20 geminidi ogni ora mentre già soltanto nel 900 negli anni 30 erano 50 ogni ora negli anni 70 erano circa 80 ogni ora fino ad arrivare al numero di oggi che è di circa 100-120 meteore ogni ora di osservazione. Quest'anno è particolarmente favorevole per l'osservazione delle geminidi perché il picco avviene nella notte tra il 13 e il 14 dicembre attorno alle 2 di notte e questo significa innanzitutto che la costellazione dei gemelli sarà piuttosto alta in cielo e inoltre in quella notte non c'è una luna invadente per cui comunque non avremo il disturbo della luce lunare che ci avrebbe impedito di vedere le stelle cadenti più deboli e quindi insomma quest'anno le condizioni sono proprio quelle perfette per poter vedere le stelle cadenti. Bisogna ovviamente andare sotto un cielo buio altrimenti da un cielo come quello che abbiamo qui a Roma o in altre città non riusciremo comunque a vederne nessuna. Al di là di questo al di là di indicazioni osservative di che cosa sono le stelle cadenti in generale perché le geminidi sono così particolari? Perché da tempo abbiamo capito che quasi sicuramente si originano non a partire da una cometa ma da un asteroide che si chiama 3200 Fetton. Fetton è il primo asteroide in assoluto della storia che abbiamo scoperto da una sonda. La sonda in particolare era IRAS una sonda dedicata allo studio del cielo all'infrarosso ossia mappava tutta quanta la volta celeste proprio alle frequenze infrarosse. Inizialmente l'asteroide fu chiamato 1983 TB ma poi due anni dopo nell'85 fu chiamato appunto 3200 Fetton ricevendo quindi un nome proprio. Fetton o Fetonte nella mitologia è figlio di Apollo, di Helios e non a caso è stato dato proprio questo nome a tale asteroide. Questo asteroide infatti ha un'orbita piuttosto particolare perché è un asteroide Apollo quindi vuol dire che incrocia l'orbita terrestre ma ha un semiasse maggiore che descrive quindi l'ellisse e l'orbita che è maggiore rispetto alla felio della Terra quindi a 1,27 unità astronomiche. Vuol dire che arriva quando arriva più lontano dal Sole più lontano rispetto alla Terra quando si trova in una posizione corrispondente. Però Fetton non incrocia soltanto l'orbita della Terra, incrocia anche quella di Marte, di Venere e di Mercurio e in effetti arriva fino a 0,14 unità astronomiche di distanza dal Sole al Perielio ossia quando si trova al Perielio nel punto più vicino al Sole e alla sua orbita si trova circa metà della distanza minima di Mercurio dal Sole. Quindi questo vuol dire che ha un'orbita molto schiacciata perché arriva da oltre l'orbita di Marte e entra fino ad entrare a metà dell'orbita di Mercurio quindi ha un'orbita veramente molto molto ellittica molto molto schiacciata e questo è qualcosa che ricorda un po' di più i movimenti delle comete che non quelli degli asteroidi in genere e non è l'unica caratteristica che ci ricorda le comete. Fetton è anche un asteroide potenzialmente pericoloso, ha un diametro di circa 5,8 chilometri e in teoria in futuro potrebbe porre un rischio per la Terra però per almeno il prossimo secolo sappiamo quasi per certo che non potrà incrociare appunto il nostro pianeta. Di come funzionano queste robe qui l'ho parlato nel video su Apophis quindi se vi interessa alla fine di questo video andatevelo a recuperare. Comunque una volta scoperto e calcolati le sue particolarità della sua orbita, Fred Whipple che era un famoso astronomo che si occupava proprio di comete, in effetti possiamo chiamarlo il fondatore delle scienze cometarie, ha capito proprio che c'era questa possibile relazione tra l'orbita di Fetton e le Gemini, ossia Fetton in qualche modo poteva avere un'attività cometaria. Quindi ha un'orbita piuttosto ellittica come le comete, ha un'attività cometaria, sarà una cometa no? Non proprio perché comunque è classificato come un asteroide, un asteroide di tipo B in particolare, ossia molto ricco di materiale carbonaceo, magari anche ricco in materiale organico, che ha un colore che dal punto di vista spettrale, ossia quando lo andiamo a analizzare al barriere della frequenza, è molto tendente al blu, per questo B da blu. Queste caratteristiche lo rendono un possibile corpo progenitore delle meteoriti Yamato, quelle con dritti carbonacee di tipo Cipsion, lo dico più nerd tra di voi, che sono molto ricche di minerale che si chiama olivina, in particolare ricca di magnesio, di carbonati e di solfati di ferro. Queste, diciamo, sono le caratteristiche mineralogiche fondamentali. Ora, al di là di questo, il punto è che Fetton è un asteroide che viene dalla fascia principale, quindi comunque è un asteroide, non è una cometa. E inoltre Fetton condivide queste caratteristiche orbitali con altri due asteroidi, che sono 2005 UD e 1999 YC, che probabilmente un tempo erano uniti a formare un unico corpo progenitore da cui si sono spezzati in qualche modo formando questi tre asteroidi diversi. Quindi non sappiamo quando si sono separati, come si sono separati, ma probabilmente un tempo erano un corpo unico. Quindi ok, Fetton è un asteroide, ma perché perde il materiale? Perché ha un'attività come Talia? Questo materiale evidentemente deve essere perso perché altrimenti non ci sarebbero le geminidi, se le geminidi sono originate effettivamente da Fetton, cosa che ormai diamo abbastanza per accertata. Le geminidi, infatti, per via della loro quantità, piuttosto scarse in realtà, si disperderebbero nell'arco di circa mille anni. Quindi se noi vediamo delle geminidi, vuol dire che almeno negli ultimi mille anni Fetton ha perso dei pezzi. A volte Fetton viene anche chiamato una cometa di roccia, ma in realtà il termine più adatto è quello di asteroide attivo. Gli asteroidi attivi sono quelli che appunto presentano una qualche attività cometaria espellendo del materiale dalla loro superficie. Abbiamo scoperti altri nel corso del tempo, come 133P Els Pisarro o 311P Panstars, ma anche tanti altri. A volte si parla di asteroidi attivi o anche di comete estinte, a seconda del punto di partenza, ossia se sono oggetti nati nella fascia principale allora sono asteroidi, ma se hanno un'attività sono asteroidi attivi. Se invece sono delle comete, ossia avvenivano da più lontano rispetto alla fascia principale ed erano molto ricchi di ghiaccio, ma oggi non hanno più attività, allora le chiamiamo comete estinte appunto. Però in realtà questo ci fa capire che il confine tra asteroidi e comete è qualcosa di molto labile, perché di fatto è un confine solamente legato alla composizione chimica. Se c'è molto ghiaccio allora c'è molta attività cometaria e le chiamiamo comete. Se invece c'è più che altro roccia e non c'è attività cometaria allora le chiamiamo asteroidi. Ma poi c'è tutto quanto, ci sono tutti i grigi se vogliamo tra questi due estremi, tutte quelle sfumature tra asteroidi e comete. Non è un caso se l'Unione Astronomica Internazionale classifica gli oggetti come pianeti, pianeti nani o corpi minori. Asteroidi e comete non è un nome ufficiale se vogliamo qualcosa più legato alla consuetudine. Comunque a che cosa è dovuta questa attività di Phaeton? Nel 2009 e nel 2012 con la sonda solare stereo abbiamo visto effettivamente che la luminosità di questo oggetto è raddoppiata nel corso di alcuni eventi, in particolare durante il perielio dell'asteroide. Ossia quando era più vicino al sole ecco che per un paio di giorni si attivava maggiormente questo asteroide mostrando una luminosità maggiore. Inizialmente si è pensato che questa attività maggiore era legata all'espulsione di polveri, ossia l'asteroide si attivava quando passava vicino al sole e espelleva della polvere. Questa polvere rifletteva di fatto la luce solare portando a una maggiore luminosità dell'asteroide. Perché durante il perielio Phaeton si avvicina appunto moltissimo al sole raggiungendo delle temperature superficiali anche superiori ai 1000 gradi centigradi. Questo avrebbe creato delle fratture nella roccia che avrebbero portato alla perdita appunto della polvere. Ma ci sono dei problemi con questa interpretazione che sono stati sottolineati da vari studi tra cui uno proprio di qualche mese fa, del 2023, di Manto Hui dell'Università di Macao. Le particelle di polvere spulse da Phaeton dovrebbero essere infatti piccole, dalla dimensione, dal diametro di circa un micron, ossia un millesimo di un millimetro. Ma della polvere fatta così verrebbe spazzata molto rapidamente via dal sole, dalla sua pressione di radiazione, ossia con la sua energia avrebbe accelerato queste particelle portandole rapidamente a superare la velocità di fuga dal sole, quindi a essere disperse nello spazio interstellare. Ma questo è un problema anche di dimensioni, perché sappiamo che le geminidi, per essere luminose come le vediamo, devono essere originate da grani che abbiano una dimensione tra 10 micron e un centimetro, quindi ben più grandi rispetto al micron. C'è inoltre un problema di quantità, perché per avere la quantità di geminidi che osserviamo, Phaeton dovrebbe perdere tra 30 e 300 kg di polvere ogni secondo, mentre in quell'occasione abbiamo visto molta meno polvere fuoriuscire. Le polvere spulse per avere quell'aumento di luminosità sarebbero infatti di circa 300.000 kg, mentre le geminidi hanno una massa totale tra 1.000 e 10.000 miliardi di kg. Quindi insomma c'è proprio un problema di ordine di grandezza, di quantità di polvere che viene espulsa. Allora Huy ha analizzato altri dati della sonda stereo che ancora non erano stati mai analizzati, scoprendo qualcosa di più. Innanzitutto da questi ulteriori dati era chiaro che questo aumento di luminosità non poteva essere dovuto a polvere della dimensione di un micron, perché la polvere ha delle proprietà abbastanza chiare dal punto di vista della diffusione della luce e questa polvere, vista da un'angolazione diversa rispetto a quelle dei dati originari del 2009 e 2012, aveva delle caratteristiche di diffusione della luce diverse. Allora giustamente ci si può chiedere a che cosa sia dovuto questo aumento di luminosità se non alla polvere. E le due possibilità che vengono portate da Huy sono il sodio e il ferro. Abbiamo visto già in un video precedente che Mercurio ha una grande coda di sodio ed ecco anche Fetton potrebbe avere qualcosa di piuttosto simile. Cioè alla temperatura di oltre 1000 gradi centigradi raggiunte da Fetton al perielio si potrebbe liberare del sodio dalla sua superficie, dalle sue rocce e questo sodio verrebbe spazzato via dalla pressione di radiazione solare a formare proprio diciamo una coda che segue questo asteroide. In questo modo Fetton diventerebbe un asteroide attivo appunto. Il sodio in qualche modo potrebbe funzionare in maniera simile a come funziona l'acqua principalmente all'interno delle comete. Ossia quando le comete passano vicino al sole l'acqua che è un elemento più volatile passa allo stato gassoso e fuoriuscendo dalla superficie della cometa ne spacca la roccia, spacca la superficie. Creando queste spaccature emerge il materiale fuoriesce e va a innescare appunto la formazione della chioma e della cometa. Spaccandosi si perderebbero anche dei frammenti di roccia proprio come per le comete e per questo Fetton perderebbe dei pezzi di roccia come conseguenza della fuoriuscita del sodio o eventualmente del ferro dalla sua superficie. Il principale indiziato comunque è il sodio e questo spiegherebbe anche perché nelle Gemini c'è così poco sodio perché di fatto il sodio si perderebbe prima nello spazio interplanetario prima di essere trasportato appunto in questi frammenti di roccia. Poi la questione potrebbe essere più complessa a riguardare anche altri gas presenti magari in traccia all'interno di questa coda di sodio ma comunque il meccanismo di base sarebbe comunque lo stesso. Appunto gas fuoriesce dalla superficie dell'asteroide si creando le spaccature e insieme a queste si perderebbero anche dei frammenti di roccia che poi andrebbero a intersecare l'atmosfera terrestre producendo appunto lo sciame meteorico delle Gemini. E questo spiega anche perché Fetton sia molto attivo soltanto attorno al perielio perché c'è bisogno comunque di molta energia di raggiungere determinate temperature affinché ci possa essere l'emersione di questo sodio dalla superficie di Fetton. Comunque per comprendere meglio come funziona questo asteroide attivo avremo bisogno di studiarlo un po' più da vicino e in maniera un po' più continuativa cosa che farà la sonda giapponese Destiny Plus che partirà nel 2025. Visiterà l'asteroide nel 2029 e sarà per lo più una missione di dimostrazione tecnologica che vuole dimostrare alcune tecnologie per quanto riguarda la propulsione e la raccolta di energia solare ma comunque avrà anche appunto questo scopo scientifico di poter studiare più da vicino in maggior dettaglio questo asteroide per darci maggiori informazioni su come funziona l'attività asteroidale. In particolare avrà uno strumento che si chiama Dust Analyzer che avrà proprio il compito di studiare la proprietà delle polveri che vengono perse da 3200 Fetton. Gli asteroidi attivi li trovo bellissimi proprio perché in qualche modo scardinano quella che è la nostra tendenza per classificare, incasellare ogni cosa nella natura. La natura è molto meno regolare, molto meno precisa di come vogliamo immaginarla. Io a questo punto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, fatemi seguire tra i commenti se vi è interessato questo video e se proverete a guardare qualche geminide anche se capisco che il freddo non aiuta molto da questo punto di vista. Vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e attivare la panella per non perdere i prossimi contenuti e a dare un'occhiata ai vari link in descrizione tra cui quello di Giganti Ghiacciati. Ci vediamo alle prossime occasioni. Ciao!